Meditazione E cosa si intende per meditazione? La meditazione consiste dunque nel raccogliere le nostre energie, interiorizzarle, indirizzarle in un punto specifico, questo, che viene chiamato in vari modi. Centro della coscienza artistica, terzo occhio. Si tratta di imparare a controllare l'energia, controllare la nostra attenzione. Ecco, questa è la meditazione. A parole è facile e poi però farlo è più impegnativo. Il metodo del Kriya Yoga che Paramahansa Yogananda ha portato in Occidente è un metodo evolutivo, efficace e completo. Il metodo evolutivo, efficace e attenzione. E' di potenza di un'è, ovvio, efficace e completo. Il metodo di un'è, ovvio, בהvitare il manage, e che rinare la nostra attenzione. Il metodo di un'è, ovvio, in alcance. Il metodo di un'è, ovvio, in abbiaz chance. Il metodo di un'è, ovvio, in un'è, ovvio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.